Ah sì? Vabbè, è una cosa per te, è come il caso che qualcuno vuole, perché era il signore del servizio, è un pochino, appena rientro a cosa. E si comincia! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai! Non è finito! Bravo! Vai, vai! Vai, vai, vai! Bello figlio Corri fuori Corri fuori No figlio Corri fuori Corri fuori Corri fuori Corri fuori Corri fuori E' un giro, vai Giorgio! Bella, bella, vai, vai! Bravo Loi, vai! Bravo Loi! Bravo Loi, vai, vai! Bravo Loi! Bravo Loi! e poi no e vai ti insegniamo e dentro e poi e poi come l'altra volta e poi oh buono 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 vai 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 buono 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 Grazie. 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 che l'ha? un gasto sopporti adeguato patilla no Grazie a tutti. Non devi saltare, non devi saltare. Non devi saltare, non devi saltare, non devi saltare. 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 Non devi saltare, non devi saltare.